Fine settimana, turisti in città e traffico in autostrada, ennesima giornata di passione per gli automobilisti sull'autostrada 9, la è nate Como Chiasso, il cantiere tra Italia e Svizzera che quotidianamente complica la vita dei frontalieri e di chiunque si sposti tra il capoluogo Lariana e la Confederazione Elbetica, anche nella giornata di oggi ha causato code e rallentamenti. Serpentoni di auto tra Como e il confine, autostrade nel pomeriggio segnalava rallentamenti tra lago di Como e Comocentro per lavori, il cantiere che comporta la riduzione della carreggiata proseguirà fino al mese di maggio quando i lavori dovrebbero essere finalmente completati in maniera definitiva. Alle limitazioni attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7 si aggiungono quasi quotidianamente chiusure totali negli orari notturni. Per la prossima settimana autostrada annunciato per consentire il transito di trasporti eccezionali dalle 22 di martedì 26 alle 5 di mercoledì 27 marzo e ancora dalle 22 di giovedì 28 fino alle 6 di venerdì 29 marzo, la chiusura al traffico del tratto compreso tra Como e Comocentro e Chiasso verso il confine italo-svizzero. Nel weekend che precede la Pasqua, intanto la città ha avuto un primo assaggio del pienone che caratterizza Como in vista della bella stagione. Lunghissime code in tarda mattinata si sono verificate alla biglietteria della navigazione laghi. La fila di turisti, in gran parte qualche cittadino, ha infatti occupato buona parte della nuova passeggiata sul lungo lago.